In questi giorni farò una presentazione a un anno di distanza, perché c'era anche l'anno scorso, le terme di Fort Don Gianus. In antichità era una meta per un altro tipo di turismo, gli antichi romani, che proprio turismo non era, erano viaggi di lavoro, di conquista. Adesso un altro tipo di viaggiatori, i viaggiatori sardi che si muovono, che vengono a passare qua, dei weekend, dei fini settimana, per godersi il beneficio di queste acque termali. Infatti vi farò vedere anche delle immagini, le persone come si immergono nel fiume per avere il beneficio dell'acqua calda, che è molto curativa, le acque termali. Ciao, a dopo! Ciao, a dopo! Ciao, a dopo! Ciao, a dopo! Ciao! Ciao! ! ! ! ! !